ma se sei scemo con chi ce l'hai hanno massacrato i tuoi genitori l'unica persona che ti è rimasta al mondo è tua sorella e gli stai dicendo un sacco di cazzate dovresti avercela con te non con me dicevi che la avresti protetta e invece che fai la lasci sempre da sola oh ma vaffanculo ma vaffanculo ma che cazzo ne sai sai tu che mi hai tirato dentro se la lascio da sola perché sto qui a farmi spaccare le braccia da te eccola qui la rabbia quanto tempo ci ho messo a farti esplodere cinque minuti bravo quindi tutta sta recita per farmi incazzare no non per farti incazzare per farti vedere quanto poco ci metti a perdere il controllo sei un libro aperto per me e lo sarei anche per loro